Buonasera, siamo giunti al nono degli appuntamenti di questo ciclo di lezioni, seminari, dove l'agricoltura incontra gli altri campi del sapere, chi ha seguito gli altri, abbiamo trattato tanti temi, abbiamo lasciato in fondo quello relativo all'incontro tra agricoltura e chimica e come relatore abbiamo il professor Luigi Dei, chi meglio di lui. Devo dire che questo è l'ultimo dei seminari del ciclo perché quello della prossima settimana che era in calendario l'agricoltura e il paesaggio viene meno la disponibilità del docente che era stato individuato per motivi di altri impegni, quindi salterà. Vedremo l'anno prossimo di riprendere questo ciclo e curare magari aspetti un pochettino che vadano più in profondità nei vari settori. Agricoltura e chimica quindi. La parola a Luigi e grazie infinite di aver dato la tua disponibilità a Luigi. Grazie, grazie Massimo. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie assoluto ai presidenti delle due accademie, il professor Sandro Rogari, il professor Massimo Vincenzini, l'Accademia Toscana di Scienze e Lettere Colombaria e l'Accademia dei Giorgofini, sapete che è un'iniziativa congiunta per avermi coinvolto in questo ciclo di seminari dedicato alle interazioni fra l'agricoltura e varie altre discipline. Vorrei premettere che accettai di parlare di agricoltura e chimica quando Massimo me lo propose, avendo compreso che non si trattava conferenza per addetti ai lavori, perché io non sono ovviamente un chimico agrario, non avrei quindi le competenze, bensì di una conversazione mirata e nucleare possibili contaminazioni e anche suggestioni interdisciplinari. Inizierò con una citazione che proporrei alla vostra attenzione, abbastanza curiosa soprattutto da parte di chi l'ha scritta. Ma che centrate voi con l'agricoltura? Di quando in qua ve ne intendete? E come no, me ne intendo, sono farmacista, vale a dire chimico, e la chimica, cara la mia signora, ha per oggetto la conoscenza dell'azione reciproca e molecolare di tutti i corpi che sono in natura, dal che deriva è ovvio che l'agricoltura rientra nel suo dominio. E infatti composizione dei concimi, fermentazione dei liquidi, analisi dei gas, influenza dei miasmi, cos'è tutto questo? Ve lo domando se non chimica, pura e semplice chimica, occorre tenersi al corrente della scienza, star sempre allerta per poter tempestivamente segnalare i miglioramenti. Mi sembra il miglior incipit per conversare su agricoltura e chimica da parte non di un farmacista ma di un chimico. Ora però voi sarete sorpresi quando a breve vi farò scoprire chi è l'autore di questo periodo, perché penso che non abbiate minimamente idea, perché l'autore è niente proprio di meno che Gustave Flaubert nel suo famoso romanzo Madame Bovary. Ecco, cerchiamo di capire meglio perché, come dice lui, la chimica sia così fondamentale in agricoltura. Lo facciamo prendendo in esame la definizione di entrambe queste discipline dal dizionario della lingua Treccani. L'agricoltura è l'arte e la pratica di coltivare la terra per ottenerne prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali e anche materie prime per numerose industrie, cotone, lino, semi oleosi e così via. In senso più ampio la parola agricoltura include anche l'allevamento del bestiame e la coltivazione dei boschi. Costituisce insieme con altre attività come l'industria e il commercio il fondamento dell'economia dei popoli. È molto interessante e intrigante la citazione che la Treccani aggiunge sotto la voce agricoltura. Leggiamola. Avvenne che, essendo stato messo in opera il gigante di piazza di mano di Michelangelo, si tratta del David ovviamente, al tempo di Giuliano, fratello di esso Antonio, e dovendovi si condurre quell'altro, l'altro gigante fatto da Baccio Bandinelli, fu data la cura ad Antonio di condurverlo a salvamento. Ed egli, tolto in sua compagnia Baccio D'Agnolo, con ingegni molto gagliardi, perché spostare tutte quelle tonnellate non era banale, e lo condusse e lo posò salvo su quella base che a questo effetto era ordinata. Ora, dice Centa, essendo egli già vecchio divenuto, non si detettava l'altro che d'agricoltura, perché era un architetto e un ingegnere, nella quale era intelligentissimo. La onde, quando più non poteva per la vecchiaia patire gli incomodi del mondo, l'anno 1534 rese l'anima a Dio. Si tratta di un passo di Giorgio Vasari, dalle vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, da Cimabue a tempi nostri. Si sta parlando del famoso architetto e sculture Antonio Giamberti da Sangallo, detto il vecchio, che fu incaricato di porre su un'opportuna base il cosiddetto gigante, una statua di Baccio Bandinelli, il citato gigante di piazza, come vi ho detto del Davide Michelangelo, che era stato posizionato in piazza della Signoria. L'architetto ormai vecchio decise di occuparsi per diletto di agricoltura, nella quale era intelligentissimo, a significare che per quest'arte è necessaria tanta intelligenza, intendo l'arte dell'agricoltura ovviamente. L'agricoltura quindi come arte pratica di coltivare la terra non può che occuparsi del mondo delle piante e il ciclo vitale delle piante lo possiamo descrivere guardando con attenzione la tavola del Grande Russo, cioè la tavola periodica degli elementi costruita da Dmitri Mendeleev. Chimico organico, anzitutto, che vuol dire carbonio, idrogeno e ossigeno. E poi tre fondamentali macroelementi, azoto, fosforo e potassio, i mesoelementi calcio, magnesio e solfo e infine i microelementi anch'essi essenziali per l'agricoltura, il boro, il rame, il zinco, ferro, manganese e molibdeno. L'agricoltura avrà a che fare pertanto con questi elementi chimici e con la disciplina che di nuovo la Treccani ci soccorre in aiuto studia le proprietà, la composizione, l'identificazione, la preparazione e il modo di reagire delle sostanze sia naturali che artificiali, del regno inorganico e di quello organico. Il regno organico e inorganico che significa? Ecco qua una diapositiva che spero vi possa chiarire. L'apparato fogliare dove sta la clorofilla verde, di colore verde, sintetizza le molecole organiche contenenti carbonio, idrogeno e di ossigeno in un modo strabiliante e fantastico. Viene catturata a luce dal sole che attraverso un sistema complicatissimo di reazioni biochimiche e fotochimiche riesce a far reagire l'anidide carbonica che è presente nell'autosfera, oggi circa 400 parti per milione, 90 anni fa eravamo su 320-330, lo sapete c'è l'incremento, con l'acqua proveniente dal suolo grazie a radici e risalita capillare. Per produrre l'anidide carbonica, acqua, sole, condizioni di temperatura e tante problematiche, i composti organici contenenti carbonio, idrogeno e ossigeno necessari a cominciare dal mattoncino dello zucchero, il glucosio e simultaneamente, attenzione, rilasciare ossigeno nell'atmosfera. Le piante dunque sono affamate mangiatrici di anidide carbonica e il loro escremento è il prezioso ossigeno. La linfa grezza diventa così linfa elaborata, ricca di nutrimento organico da convogliare sempre attraverso vasi capillari a tutte le cellule vegetali costituenti l'organismo genericamente detto pianta. Il regno inorganico dove sta? Qui è tutta roba organica, a parte la CO2 e l'acqua. Si trova nel terreno, soprattutto sotto forma di sali minerali dove sono presenti appunto i macro, meso e micro elementi di cui parlavamo poco fa. Abbiamo dunque già risposto alle due fondamentali domande che la diapositiva illustra. Fotosintesi clorofiliana nella parte fogliare verde per i composti organici cosiddetti CHO e il terreno per tutti gli altri elementi che abbiamo menzionato. Il disegnino che abbiamo visto prima, quello dell'albero che vi ho fatto vedere, sembra semplice e banale ma in realtà ciò che accade istante dopo istante durante l'intero ciclo vitale di una pianta è di una complessità inimmaginabile e ci riporta ancora alla chimica. Migliaia, milioni di trasformazioni, ossia reazioni chimiche, che peraltro coinvolgono tutti e tre gli stati di aggregazione della materia. Il solido, il liquido, il gasoso, ossia il terreno fatto di materiale solido, le soluzioni acquose di cui il terreno è impegnato costituenti la linfa grezza, le soluzioni di linfa elaborata, i gas anidia carbonica, ossigeno e vapore d'acqua. E poi ci sono tanti processi chimico-fisici fondamentali, la diffusione, l'osmosi, la solubilizzazione, l'evaporazione, i fenomeni capillari dovuti alla tensione superficiale, alle curvature delle superfici libri e tant'altro ancora. Insomma, aveva proprio ragione Messier Hommet, il farmacista di Honville, la cittadina della Normandia dove si ambienta il romanzo di Madame Bovary. Possiamo quindi dedurre che l'arte di coltivare la terra, l'agricoltura, dunque l'arte di aiutare processi chimici e chimico-fisici alla base del ciclo vitale di quegli organismi vegetali che forniscono i prodotti per l'alimentazione delle persone, degli animali e anche materie prime, quali cotone, eccetera, e come abbiamo visto con Antonio Giamberti da Sangallo detto il vecchio, bisogna anche essere intelligentissimi. La prima conclusione che possiamo trarre è che non esiste un'agricoltura pulita, senza chimica, contrapposta a un'agricoltura inquinata dalla chimica. L'agricoltura si basa sulla chimica, ma allora cerchiamo di scoprire il perché, invece di questa contrapposizione che spesso si legge sui giornali, che è sfociata, spesso e tuttora sfocia, è una sorta di demonizzazione dell'uso della chimica in agricoltura, erigendo monumenti alla cosiddetta bioagricoltura, come se nella bioagricoltura non ci fosse la chimica, i processi chimici. Fino a circa 1180 anni fa esisteva l'agricoltura, ma pur basandosi sulle reazioni chimiche che abbiamo poco fa schematizzato, non ricorreva alla cosiddetta chimica di sintesi o artificiale, ossia con composte sintetizzati dall'uomo ad hoc. Era l'agricoltura del terreno e della cacca degli animali, ossia del concime naturale. Orbene, non è però che fino al 1842 non ci fosse alcun contributo della chimica per l'agricoltura, c'era e come, se no non sarebbe potuta esistere. Ma non si vedeva, e spesso purtroppo anche oggi si continua a non vedere, la chimica dove stava nascosta, nel terreno, nelle tame, nelle piante che crescono, nella ignota allora fotosintesi cronofiliana, in tutta la miriade di processi chimici e chimico-fisici che c'erano anche allora, nonostante non ci fosse la chimica moderna e che avevano consentito per millenni la coltivazione da parte dell'uomo, pur senza saperne niente. Nel 1842 John Bennett Laws brevetta il cosiddetto letame artificiale, costituito dal superfosfato di calcio. E il primo prodotto ideato dall'uomo è in grado di arricchire il terreno di un fondamentale macroelemento, il fosforo. Passano un po' d'anni e prima arriva il processo Birkeland-Aide per la produzione dei fertilizzanti azotati, l'azoto è l'altro essenziale macroelemento, per poi prevenire con il processo Haber-Bosch alla messa a punto del processo di produzione di ammoniaca da azoto atmosferico, a basso costo e con minimo dispendio di energia. Grazie a opportuni catalizzatori. Fritz Haber riceverà il premio Nobel per la chimica nel 1918 per questa scoperta. Come spesso accade per le grandi scoperte scientifiche, ahimè, a fronte di aspetti positivi e benefici, per una sorta direi di legge del contrappasso, si affancano impieghi assai meno mobili. La sintesi dell'ammoniaca, a punto di partenza di base per i fertilizzanti chimici azotati, fu anche elemento per un clamoroso impulso alla produzione di esplosivi. La Prima Guerra Mondiale era alle porte, non dimentichiamolo. Ma torniamo al nostro tema. La strada per l'impiego su base massiccia di fertilizzanti azotati, fosforici e poi successivamente combinati con sali a base di potassio, porterà al rapido incremento della produzione di varie piante per uso alimentare e per la produzione di mangime per gli animali. In particolare, come vedremo, si incrementerà non solo la superficie coltivata, ma soprattutto la produzione in tonnellate per ettaro, la cosiddetta resa specifica di una coltivazione. Uno a questo punto si potrebbe chiedere, ma che ci importa? Ma perché tutta sta roba? Non poteva restare tutto come prima? Tutto bio, si direbbe oggi? È solo un tema di business per le aziende produttrici di fertilizzanti chimici? Troppo semplice sarebbe questa impostazione. Cerchiamo di approfondire un tema molto legato alla produttività specifica dei terreni coltivati, la crescita della popolazione mondiale. Osservate con attenzione questa diapositiva. Premesso che i dati fino a circa il 1600 sono stime affette da errori importanti, per ovvi motivi, comunque questo andamento basato su studi condotti dall'ONU è assai significativo. L'esplosione demografica su scala mondiale si affaccia con prepotenza pochi minuti fa, cioè nel ventesimo secolo, con un cremento esponenziale davvero pauroso. Vedete, lì siamo praticamente, siamo costanti, fino grosso modo al 1903. Guardate, 1908-13 è la sintesi dell'ammoniaca e poi c'è quella esplosione. Le cause di ciò sono molteplici ovviamente. Ne ricordo solo alcune. Le condizioni geniche, la qualità dei cibi, i farmaci, l'apporto delle grandi scoperte scientifiche e del loro trasferimento tecnologico a migliorare l'habitat in cui viviamo. Insomma, si creano le condizioni per un'esplosione demografica senza precedenti nella storia umana. E pertanto si pone per la prima volta il problema di alimentare una popolazione che sta crescendo in modo verticinoso e che vorrebbe mangiare, si pensa. Non è un caso che ciò di fatto poi si realizzerà, ossia garantire alimentazione per una popolazione che a breve arriverà a 10 miliardi. È stato superato 8 miliardi circa un anno fa. Proprio in seguito a quelle tre grandi pietre miliardi chimiche di cui abbiamo parlato. Esiste ancora ben inteso il problema della fame, ma riguarda oggi, secondo gli ultimi dati FAO, circa 700-800 milioni di persone su 8 miliardi e quasi del tutto confinati nel continente africano. Che ovviamente è un dato drammatico, non lo faccio per sminuire, anche perché si prevede che la crisi climatica possa far crescere questo numero negli anni a venire. Si pensi che dal 2019 a oggi, cioè quattro anni, gli ultimi quattro anni, vi è stato un incremento del 150% di persone che non hanno accesso a cibo nutriente a sufficienza, dopo anni e anni di decremento. Quindi gli ultimi quattro anni. Quindi questo è un segnale importante e anche un po' inquietante. Certo è che dal 1900 a oggi la popolazione da alimentare è passata da circa un miliardo e mezzo a otto miliardi. Questo dal 1900, non da Giulio Cesare. E' quindi immaginabile quanto sia stato enorme l'incremento di terreni coltivati in ettari e quanto sia cresciuta anche la produttività specifica in termini di tonnellate prodotto per ettaro coltivato. Se andiamo a ingrandire ciò che ci aspetta nei prossimi anni ci vengono i brividi. Queste sono delle proiezioni. Il picco sembra vicino, ma i numeri sono impressionanti, accanto ad alcune tendenze molto preoccupanti che sono associate alla crisi climatica e alla presenza, ahimè, di numerosi conflitti di guerra. Noi vediamo l'Ucraina, vediamo ora Israele, ma non dimentichiamoci che ci sono diverse decine di conflitti. Etiopia e Somalia, Eritrea, tanto per farne qualche esempio. Dopo decenni di declino, infatti, la percentuale mondiale di popolazione denutrita, uno dei componenti dell'indice globale della fame, è in aumento. E questo è un altro segnale inquietante. Questo cambiamento potrebbe anticipare un'inversione di tendenza in altri indicatori della fame. Ritornando al tema del rapporto fra agricoltura e chimica durante l'esplosione demografica degli ultimi cento anni, vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo grafico. Premesso che il tema di fondo è stato e continua a essere quello di riuscire a alimentare dagli inizi del secolo XX una popolazione mondiale in vertiginosa crescita esponenziale, si può notare che sebbene siano aumentati gli ettari coltivati, il rapporto degli ettari coltivati pro capite è addirittura diminuito, a riprova di quanto sia possente l'esplosione demografica. Sono aumentati gli ettari coltivati, ma se poi li vado a dividere per 8 miliardi e trovo una diminuzione. L'uomo incrementava le terre coltivate per alimentare questa popolazione in rapidissima crescita, ma l'incremento demografico era ancora più forte e pertanto gli ettari coltivati pro capite diminuivano. Dice qui la popolazione cresce, coltiva, coltiva, ma questa riprova che è più difficile incrementare la terra coltivata che non incrementare la popolazione. È interessante analizzare un po' come si presenta la nostra superficie terrestre. Allora, come vedete la distribuzione fra terra emersa e mari è un po' meno di 1 a 3, 149 milioni di chilometri quadri, pari al 29% dell'intera superficie terrestre. Cioè è quasi sull'acqua, quindi c'è poca terra inersa. Di questo 29% è abitabile il 71%, il resto sono deserti. 10% sono ghiacciai, ossia Antartide, e il rimanente 19% terre sterili, quali deserti, saline, rocce, spiagge, dune. Per quanto riguarda la frazione abitabile abbiamo 46% agricoltura, 38% foresti, 14 arbusti, cespugli, 1% aree urbane edificate. Siamo una nullità, siamo tanti, 8 miliardi, ma occupiamo poco superficie. 1% acquedolci, laghi e fiumi, dei 48 milioni di chilometri quadri destinati all'agricoltura, bene il 77% serve per alimentare il bestiame che produce carne e latticini, il 77%. Uno pensa, dice, è tutta coltivata per noi. No, per noi poca roba, 23%. Destinata a colture, finalizzata a produrre mangimi per il bestiame anche. Ora, attenzione agli ultimi fondamentali dati da interpretare alla luce della grande esplosione demografica. Il nostro organismo per vivere e sostentarsi necessita di un apporto di calorie, se no si muore. Nella diapositiva è global calorie supply e di proteine per la rigenerazione cellulare, global protein supply. Ebbene, con l'attuale configurazione dell'agricoltura, osserviamo un dato interessante, ossia l'incredibile sbilanciamento fra la distribuzione del terreno agricolo, fra bestiame e colture, 77% versus 23%. E il contributo viceversa dato da queste due voci al global calorie and protein supply, carne e latticini, contribuiscono rispettivamente 18% e 37%, mentre le colture 82% e 63%. Si capisce quindi che l'esplosione demografica ha creato l'indispensabilità di incrementare negli anni, soprattutto in quest'ultimo secolo, la superficie destinata complessivamente all'agricoltura. Se no non c'era da mangiare, è inutile fare tanti discorsi bio-bio. Qui si tratta di dar da mangiare a tante persone. Ecco cosa è successo dal 1600 ai giorni nostri. Come si vede abbiamo anche in questo caso un incremento. Questo è, ma attenzione, molto differenziato nelle varie aree del pianeta. Attenti alla legge di questo diagramma. Per capire quanto incrementa nelle varie regioni la superficie destinata all'agricoltura, bisogna osservare quanto si allarga per ciascuna regione la fascia colorata, senza farsi ingannare dall'asse verticale. Vedete quanto si allarga. Bene, Europa non è cresciuto niente, è stabile nel corso dei secoli. Tanto coltivavamo e tanto coltiviamo. Russia e Nord America in crescita fino al 1930 e poi abbastanza stabili. Mediorente Sud America in crescita fino al 1950 e poi stabili. Asia e Africa esplodono dal 1950 a oggi, esplodono. L'oceaneo in casa anomala cresce molto a partire dal 1900 a causa di un'antropizzazione molto più recente, è chiaro, 1600. Nella prossima diapositiva si vede cosa sta succedendo negli ultimi dieci anni. Si vede chiaramente, il grosso sono puntini verdi e poi ci sono dei puntini blu. I verdi sono le aree agricole che ci sono da sempre. I puntini blu sono le aree agricole creatisi nell'ultimo decennio, dove sono Africa e Sud America. Sono oggi le regioni di massima espansione per i nuovi terreni agricoli. Chissà come mai. È facile immaginarselo perché è lì. Il verde sono le zone agricole già da tempo. Mi sembra abbastanza chiaro ricavare da tutto ciò cosa sta accadendo sotto i nostri occhi. Una cosa molto semplice. Questo è eventualmente il mondo al contrario rispetto a quello che leggiamo sui libri di storia fino al XX secolo. Altro che i pettegolezzi su questi libri che vengono prodotti oggi. Per la prima volta nella storia dell'umanità dobbiamo mettere a tavola 8 miliardi di nostri simili. E non è una passeggiata. E nemmeno una questione tanto banale. Se del caso direi è una sfida colossale. Che se affrontata in modo razionale e in un'ottica transnazionale di governo del pianeta ci può far passare alla storia come l'epoca che salvò l'umanità dalla catastrofe. Altrimenti ahimè come l'epoca che determinò la catastrofe e drammi planetari il cui scenario è anche difficile immaginare fino a quelli più catastrofici che immagino addirittura all'estinzione della specie umana. Tornando all'argomento però della nostra conversazione voi potete dire ma è la chimica in tutto ciò che può fare. Guardate un po' questa diapositiva. Ecco qua la chimica. Si tratta della resa di cereali nelle varie coltivazioni in termini tonnellate per ettaro in funzione dei chili di fertilizzante azotato impiegato per ettaro di coltivazione. Le grandi rese necessitano di un impiego massiccio di fertilizzanti azotati se no grandi rese non ci sono. Interessante notare le bassissime rese di molti paesi dove africani associate a che cosa? A uno scarsissimo uso di fertilizzanti. interessante notare però attenti questa è una cosa importante che alcuni paesi africani che impiegano massicciamente fertilizzanti vedi il Marocco non hanno grandi rese per ettaro. A riproba che il fertilizzante azotato è solo uno dei fattori per le altre rese ma non il solo. In effetti vi sono problemi legati all'irrigazione, al tipo di terreno più o meno fertile e poi a tutta un'altra serie di complessi fattori che cercherò in breve di illustrarvi. Ricapitolando dunque la chimica ha aiutato e sta aiutando l'agricoltura con la messa a disposizione di fertilizzanti azotati, potassici fosforici, sistemi di rilascio controllato dell'acqua irrigua e infine con additivi che implementino il terreno dei micro elementi indispensabili per innalzare le rese delle culture. Ma la chimica ha avuto e ha un ruolo incredibile anche per eliminare tutto ciò che danneggia le piante coltivate e abbatte la resa perché non basta incrementare la resa. Le piante sono vulnerabili, gli insetticidi che combattono insetti nocivi alle culture agricole ma anche gli insetti semplicemente molesti o portatori di malattie per l'uomo e gli anidomestici, i fungicidi che contrastano le malattie e le alterazioni prodotte dai funghi, i diserbanti o erbicidi utilizzati per distruggere le erbe infestanti, le cosiddette malerbe che possono comprendere anche dei folianti, gli anticrittogamici che contrastano malattie e alterazioni prodotte da batteri, muffe, alghe, i nematocidi che combattono i vermi del terreno o nematodi, gli acaricidi che combattono gli acari e i fitoregolatori, ossia gli ormoni vegetali che regolano la crescita delle culture. La prima cosa che viene da chiedere al cittadino è la seguente. Ma con tutte queste sostanze chimiche che si capisce servono per avere rese più elevate e sfapare una popolazione in vorticosa espansione, ma noi cosa mangiamo alla fine? Perché questa è la domanda che viene. Il tema è proprio questo. Se da un lato i fertilizzanti e tutte le altre sostanze, come abbiamo visto, sono fondamentali per incrementare la resa in tonnellate proettaro delle coltivazioni, dall'altro, attenzione, l'esagerazione con un impiego eccessivo è foriera di una serie di elementi negativi che brevemente analizzeremo. Il gruppo tecnico intergovernativo sui suoli dell'Agenzia dell'ONU ha stabilito nell'anno 2020 che un suolo sano si riconosce per la capacità di sostenere produttività, diversità e servizi ambientali degli ecosistemi terrestri. Quindi non basta andare a vedere, produce di più per ettaro, siamo a posto. Ecco dunque l'indispensabilità di fissare indicatori comparabili sulla gestione sostenibile dei terreni. I principali problemi associati ai fertilizzanti sono legati soprattutto a un utilizzo eccessivo e inefficiente. In effetti questo produce perdite di nutrienti nell'ambiente ed altri effetti negativi, come la contaminazione delle risorse idriche per il consumo e l'eutrofizzazione dei sistemi d'acqua dolce e delle zone costiere. Alcuni fertilizzanti inoltre hanno conseguenze sulla salute umana a causa di pratiche di stoccaggio non sicure. Ecco dunque la necessità di un'agricoltura che produca tanto ma in modo sostenibile. Se per anni si è ricorso il gol di terreni quanto più possibile fertili to cure, oggi appare cruciale aggiungere quella conciusione ma che avversativamente al fertile propugni sostenibile. La terza dichiarazione ONU sull'inquinamento del suolo ha focalizzato l'attenzione sulla implementazione di linee guida volontarie per la gestione sostenibile dei terreni e si sta imponendo oggi un vero e proprio codice dei fertilizzanti che affronta temi quali il riciclo dei nutrienti, l'uso di prodotti sicuri, la tutela della salute del suolo fornendo indicazioni e illustrando le buone pratiche destinate agli operatori del settore. Quindi fondamentale un'attività di regolamentazione. Al fine di rafforzare la produzione e la sicurezza alimentare globale senza sacrificare la fertilità del suolo e gli ecosistemi, la FAO ha suggerito la cosiddetta regola delle quattro R, right source, at the right rate, at the right time and in the right place. Un'idea che cerca di mettere insieme aspetti ambientali, economici e sociali. Analizziamola meglio perché per perseguirla vedremo quanto essenziale diventi nuovamente il connubio fra agricoltura e chimica. Che vuol dire right source? Significa che ogni terreno deve avere una corretta fonte di nutrienti per assicurare al suolo una bilanciata fornitura di essi, essenziali per la pianta, includendo fertilizzanti, fertilizzanti liquidi e o concime biologico. Si conferma quindi l'indispensabilità dei fertilizzanti chimici ma introducendo due aggettivi importanti, corretto e bilanciato. D'altra parte la seconda è quella del right rate, ossia corretto tasso, significa applicare il fertilizzante esattamente quanto basta per venire incontro alle necessità della pianta tenendo conto dei nutrienti già presenti nel suolo, che non sono uguali in ogni suolo ovviamente. Ma c'è ancora di più, la terza R riguarda il tempo di applicazione, giacché è fondamentale immettere il fertilizzante nel suolo coltivabile quando? Allorché la pianta possa farne il miglior beneficio, non a caso, evitando tempistiche che possano generare perdita del fertilizzante per esempio nell'ambiente. Infine l'ultima R è relativa al corretto luogo di applicazione, ossia applicare laddove le piante possano facilmente usare il fertilizzante e vi sia la minima probabilità che venga perduto nell'acqua o nell'aria, causando danni spesso irreversibili al suolo o all'ambiente. L'analisi di queste raccomandazioni chiama in causa di nuovo la chimica e in particolare la chimica del suolo. Dalle quattro regole d'oro che abbiamo ora descritto emerge appunto l'importanza di conoscerlo bene chimicamente questo presunto conosciuto suolo che invece è spesso sconosciuto. È di nuovo la FAO a stabilire cosa si debba intendere per un suolo sano, un suolo che abbia, leggo testualmente, la capacità di sostenere la produttività, la diversità e i servizi ambientali degli ecosistemi terrestri. Un eccessivo impiego di fertilizzanti, pesticidi e di tutti gli altri prodotti che abbiamo poco fa ricordato si può rivelare un clamoroso boomerang. Per qualche anno la produttività pro-ettaro cresce e successivamente il suolo si impoverisce in quanto non sostiene lo stress chimico e allora dai ancora di più e ancora peggio, risultando via via sempre meno produttivo a dispetto magari di un ulteriore incremento di fertilizzante usato, con un meccanismo di retroazione che potrebbe diventare devastante per quel suolo coltivabile. Non dobbiamo mai dimenticare quanto è emerso nel recentissimo simposio generale FAO del 22. Il suolo è responsabile della produzione del 95% del nostro cibo, ma la sua gestione è ad oggi spesso insostenibile. Senza un cambio di rotta nel 2030 l'8% della popolazione mondiale potrebbe ancora soffrire la fame, ossia tra i 750 e gli 800 milioni di esseri umani e quindi arrestarsi quel processo di sfamamento di tutto questo incremento di popolazione. Vi sono recenti significativi dati molto inquietanti. Dopo diversi anni di stasi riguarda la percentuale di tasso di nutrizione che si era attestato sull'8% dal 2015 per 4 anni, 15, 16, 17, 18, 8%. Si è assistito a un aumento preoccupante, guardate, 9,3, 9,5, 9,8 negli anni 19, 20, 21. Il numero di persone che hanno patito la fame nel corso del 21 è stimato fra 702 e 828 milioni. Come già visto il tema del coniuvo chimica e agricoltura è stato sempre ed è ancora oggi a maggior ragione imprescindibile per far sì che il paniere alimentare mondiale possa essere sufficiente per tutti e che in prospettiva si possa zerare il tasso di nutrizione in percentuale. Se prima si pensava che con fertilizzanti e disinfestanti vari la battaglia poteva considerarsi vinta, oggi purtroppo non è più così. Da un lato i cambiamenti climatici con siccità e desertificazione, dall'altro lo stress cui sono stati sottoposti i suoli coltivati dall'azione di fertilizzanti e disinfestanti mettono oggi in primo piano il tema della sostenibilità che però, attenzione, deve accompagnarsi a causa dell'esplosione demografica a una resa delle coltivazioni sufficientemente elevate, se no siamo appunto a capo, proteggiamo il suolo e aumenta a dismisura chi more di fame, al fine di riempire quel paniere alimentare destinato a un desco che ahimè sarà sempre più affollato, perché le stime sono che arriveremo grossomodo nel 2100 intorno ai 10 miliardi per poi fermarsi e verosimilmente scendere. Da un lato ecco il tema interessante oggi e significativo è il tema dei cosiddetti black soils, che sarebbero le terre nere, sono universalmente riconosciuti come il paniere alimentare mondiale e considerati essenziali per l'approvvigionamento alimentare globale. Finora ai black soils non era stata dedicata una pubblicazione scientifica da parte di istituzioni internazionali che ne fotografasse la condizione di salute e ne segnalasse la criticità. La lacuna è stata colmata dalla FAO che in occasione della giornata mondiale del suolo nel 22 ha presentato The Global Status of Black Soils, il suo primo rapporto sulle cosiddette terre nere. Nonostante rappresentino solo il 5,6% dei suoli mondiali, poca roba, il 17% delle terre coltivate e in essi viva meno del 3% della popolazione mondiale, da essi dipende gran parte di produzione di alcuni elementi essenziali. Pensate, dai black soils arriva il 66% dei semi di girasole, arrivano da lì. Oltre la metà del miglio piccolo, 42% di barbabiatola da zucchero, 30% del grano, 26% di patate. Dalla diapositiva si evince chiaramente quanto siano importanti per numerosissime coltivazioni. Ma che sono queste terre nere? Sono delle terre caratterizzate da un colore molto scuro, è chiaro, per questo si chiamano nere, e da un alto contenuto di materiale vegetale decomposto, ricco di carbonio e di nutrienti essenziali, come azoto, fosforo e potassio. Sono quindi tre terreni più produttivi e quelli che in teoria necessitano di meno fertilizzanti, tanto che da essi dipende gran parte della produzione agricola mondiale. A livello globale sui black soils vivono circa 223 milioni di persone su 8 miliardi. Qui non ci vive quasi nessuno, tutta roba coltivata. Ma alcune alere percettuali però sono diverse. L'Ucraina, ad esempio, è uno degli stati in cui le terre nere sono fra le più diffuse. E qui si dovrebbe pensare perché le guerre avvengono per l'appunto lì. Però non lo dice nessuno alla televisione, no? Si parla di putiniani, filoputiniani, antiputiniani, ma questi elementi qui non ne sentite parlare. Vi risiede il 52% della sua popolazione. In Ucraina il 52% della popolazione risiede nelle terre nere. Su scala mondiale è solo il 3%. Ci sarà una ragione. Esatto, la parte orientale. No, non solo il Donbass. Tutta la parte che dà quella produzione agricola, che dà il grano l'Africa. Perché l'Africa può andare in crisi? Perché il sostentamento lo prende anche dal grano ucraino. In Moldavia, altro Stato, sarà un caso che teme di essere vittima dell'escalation bellica da parte di Mosca. Quella percentuale sale addirittura al 93%. Dove si trovano questi black soils? C'è un'ampia fascia dove sono più diffusi, collegata soprattutto alle medie latitudini, come era da immaginarsi, dell'Eurasia, del Nord e del Sud America. Quindi le medie latitudini nei due emisferi. In tutto coprono circa 725 milioni di ettari. Quasi la metà sono collocati nella Federazione Russa, dove rappresentano il 19% della superficie nazionale. Altri paesi con vaste aree di terre nere includono l'Argentina, la Cina, ovviamente, la Colombia, l'Ungheria, l'Indonesia, Kazakistan, Polonia e Stati Uniti d'America. Studiare il chimismo di queste terre nere, ecco la chimica, è fondamentale per preservarle da ipersfruttamento e farle invece rendere al meglio. Le terre nere, spiega Yuxin Tong, coordinatore dell'International Network of Black Soils, non sostengono soltanto le persone che vi si stabiliscono, ma nutrono anche il resto del mondo attraverso la grande quota di esportazioni di cibo, nonostante rappresentino una piccola parte dei suoi del mondo. Considerando il loro foro fondamentale per la sicurezza alimentare e l'azione per il clima e la loro crescente vulnerabilità, è della massima importanza studiare le loro proprietà e la loro condizione di salute su scala locale e globale. Un migliore monitoraggio della dinamica delle terre nere diventa infatti essenziale per prendere decisioni informate e consapevoli, partendo da un principio ben noto nel mondo degli esperti del suolo. Non tutti i terreni hanno l'uguale valore. E le azioni di difesa devono tenere a mente questo principio. Le terre sono letteralmente vive. Grazie al lavoro imponente dell'ampra varietà di organismi in essi ospitati trasformano la materia vegetale animale in acidi umici, ecco la chimica di nuovo, che catalizzano nuovi cicli vitali fuori terra. Ecosistemi così complessi rendono anche le terre nere sensibili agli interventi antropogenici che li interrompono, con conseguenze enormi per la sicurezza alimentare globale e il cambiamento climatico. Il suolo dunque necessita di essere dettagliatamente e profondamente conosciuto in tutte le sue rilevanze chimiche e l'interazione di esso con le sostanze chimiche impiegate in agricoltura, siano essi fertilizzanti, diservanti, antiritocamici e quant'altro, devono essere oggetto di accuratissima disamina affinché il loro impiego sia sostenibile rispetto ai vari ecosistemi coltivabili sul pianeta. È da questo delicatissimo equilibrio, assolutamente esente da ogni assurdo manicheismo biobello chimico brutto, che deriva al nostro futuro la consapevolezza dell'insostituibile ruolo della chimica, ma altrettanto contezza dell'imprescindibilità di una valutazione di tutti gli effetti collaterali derivanti dall'impiego della chimica. Demonizzare la chimica e parimenti deleterio, quanto è stato per lunghi anni, ergere a Deus ex machina, quale risolutrice di tutti i problemi alimentari di un pianeta in vorticosa e fredetica espansione demografica. Voglio farvi due esempi storici che mostrano quanto siano irrazionali e privi di senso questi due opposti atteggiamenti. Via la chimica, la chimica è solo roba brutta oppure tutta chimica. Li menziono brevemente. La terribile carestia in Irlanda della fine Settecento ed inizio Ottocento e l'ascesa e decadenza dell'insetticida DDT. Sono proprio due esempi eclatanti. La grande carestia colpì l'Irlanda tra il 1845 e il 1849. La patata era giunta in Irlanda intorno al 1590. Da allora, al pari di una rivoluzione, la coltivazione da prima limitata si decuplicò e le patate irlandesi assunsero un posto di assoluto rilievo nello sviluppo della società irlandese. Nel 1750 era ormai ampiamente diffusa. Per i più poveri i cereali erano diventati troppo cari. E la patata cos'era? L'unico, non l'alimento principale, l'unico alimento. Questo spiega perché la grande carestia fece tutti quei morti. Dal 1845 al 1850 ci fu una diffusione nelle campagne della peronospora. A seguito di una grave malattia causata da un fungo infestante, la phytoftora infestans, in assenza di qualsiasi metodo chimico di disinfestazione, i tuberi furono interamente distrutti. Si alternarono periodi di distruzione sistematica del raccolto e così la grande carestia fu considerata una delle tragedie più gravi della storia europea. Considerando che la patata fosse diventato l'alimento base della popolazione, quest'ultima fu letteralmente decimata. Secondo i dati riportati dal censimento del 1841, l'Irlanda contava poco più di 8 milioni di abitanti. Dieci anni dopo, nel 1851, si registrò un dato di 6 milioni. Quindi cosa vuol dire? 25% della popolazione in dieci anni via. Sarebbe come se noi tra dieci anni da 60 milioni si perdesse circa 15 milioni per una carestia all'epoca o per un'altra catastrofe. Una devastazione totale che ebbe la sua massima espansione nell'anno 1847, che è passato alla storia come l'anno nero, dove si calcolarono che in un solo anno morirono mezzo milione di persone per denutrizione, per fame. La decrescita demografica si accentuò negli anni che seguirono, fino ad abbassare il numero pensato a 4 milioni all'inizio del XX secolo. Quindi nel giro di 50 anni l'Irlanda dimezzò la sua popolazione. Il calo fu dovuto non solo ai morti, per denutrizione a malattie, tifo, dissenterie, lo scorbuto, il deperimento organico, e a un'andata pluriennale di emigrazione verso il Canada e Nord America, perché o morivano o scappavano. La decrescita e si arrivò a 4 milioni. L'Inghilterra, che all'epoca governava l'isola, invece di aiutare il popolo irlandese, qui ci sarebbe da fare una bella riflessione, si affidò alla politica ultraliberista dell'SFR, nella speranza che la calestia potesse decimare una popolazione considerata eccessiva e ostativa ai fini dell'espansione terriera inglese e solo irlandese. In questo senso la decisione funzionò. Milioni di persone persero la vita a causa della fame e altrettanti salirono sulle famigerate coffin bots. Cos'erano le coffin bots? Navi bara, che salpavano per l'America con il loro carico di emigranti, che spesso morivano tutti durante la terribile e difficilissima attraversata, altro che arrivare dalla Tunisia. Immaginatevi cosa doveva essere nel 1850, partire dall'Irlanda e arrivare in Canada o negli Stati Uniti d'America. Insomma, come si vede la storia, seppure mutatis mutandis si ripresenta spesso e questo dovrebbe darci qualche insegnamento. Questo esempio mostra quanto fondamentale sia stato il ruolo della chimica nell'agricoltura, perché se avessero avuto un disinfestante, che non c'era, si riusciva a mettere, se non altro durava un anno, non 50 anni. E quanto sia assurda la denomizzazione in nome del principio che l'aggettivo chimico sia qualcosa di contrari alla natura e che invece l'aggettivo biologico sia la natura. La chimica può aiutare l'uomo quando la natura, facendo per carità il suo mestiere, crea inerarrabili disgrazie per l'umanità. Perché la natura ha fatto il suo mestiere, perché non appartiene alla natura la peronospora? E' certo. La peronospora, quando distrugge una coltivazione di patate, fa il suo mestiere. Si riproduce e campa di quella. D'altra parte, come la chimica aiuta l'uomo, bisogna tesi ricordare della grande accortezza e prudenza nel suo impiego a causa degli effetti collaterali negativi. Veniamo a questo punto alla storia del DDT. Questo composto fu sintetizzato per la prima volta nel 1874, presso il laboratorio dell'Università di Strasburgo, dal chimico tedesco Ziegler, ma la sua efficacia come potente insetticida fu dimostrata solo nel 1939, quindi molti anni dopo, dal chimico Ziegler Müller. Prima del DDT i soli insetticidi disponibili erano quelli che, come i composti a base di arsenico, presentavano elevata tossicità anche per gli animali a sangue caldo o quelli che utilizzavano principi estratti dalle piante, caratterizzati però da una scarsa efficacia. Il DDT entrò in uso negli Stati Uniti nel 1942 e durante il periodo bellio della Seconda Guerra Mondiale si dimostrò un potente alleato dell'esercito, perché venne utilizzato per esterminare gli insetti responsabili di malattie, quale il tifo, la febbre gialla e la malaria. Insomma, non è una malattia da poco. Basti pensare che durante la precedente Prima Guerra Mondiale si stimarono più di 5 milioni di decessi per queste patologie. 5 milioni non per le armi da fuoco, ma per queste malattie terribili. Le principali caratteristiche riconosciute a questo prodotto erano l'elevata tossicità per gli insetti accompagnata, si diceva, da una sostanziale innocuità per l'uomo. La lunga persistenza nell'ambiente erorato e la mancanza di effetto repellente per gli insetti, che quindi non si allontanavano dal luogo di erorazione. Quindi lo spargevano. Durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe alleate ne fecero un massiccio utilizzo su civili e militari per salvaguardarli da queste infestazioni. La prima volta fu per sconfiggere un focolaio di tifo a Napoli e in seguito fu largamente usato in una provincia di Latina, all'epoca si chiamava Littoria, non Latina, in Veneto e Sardegna per sconfiggere le zanzare anofele, molto diffuse nelle zone paludose, e responsabili della trasmissione della malaria. Nel 1945 Winston Churchill, il primo ministro del Regno Unito, si referì al DDT come a qualcosa di miracoloso, a causa dell'indubbia utilità riscontrata nel corso del secondo conflitto mondiale. E nel 1948 Müller, lo svizzero, presse il premio Nobel per la medicina, non per la chimica, perché lui aveva ricordato la chimica, era stato scoperto nel 1874, per l'uso. Fu proprio il risultato conseguito in Italia nel periodo bellico a spingere l'Organizzazione Mondiale della Sanità a lanciare una campagna planetaria per l'utilizzo del DDT con lo spoco di eradicare completamente dal pianeta la malaria. Del resto si può affermare con certezza che il DDT ha consentito di debellare questa malattia in Europa e in tutto il Nord America. Nel dopoguerra però l'uso, o forse meglio dire l'abuso del DDT, si fece sempre più esteso, non solo a fini di sanità pubblica, ma anche come insetticida per proteggere gli alberi, le colture agricole, le derrate alimentari. Questa massiccia diffusione, come spesso accade, determinò la necessità di usarne dosi sempre maggiori per ottenere gli stessi risultati e favorì lo sviluppo di specie di insetti dannosi resistenti all'insetticida, un po' come accade con i batteri antibiotico resistenti. Risultò ben presto evidente che questo composto, degradandosi molto lentamente, ha una vita lunghissima. Cosa faceva? Per la sua bassa reattività alla luce della sostanza, permaneva nel suolo per molti anni e si diffondeva a lunga distanza anche attraverso l'aria e molti convettivi dell'aria. Il fatto poi che la sua molecola sia polare fa sì che esso sia insolubile in acqua, ma che sia insolubile nei grassi e quindi il DDT, come altri composti organocrurati, si concentrava nei tessuti adiposi degli animali e la sua concentrazione aumentava con il procedere della catena alimentare. Negli animali noi si mangia la carne degli animali, che c'era un po' di grasso ovviamente. Particolari effetti nocivi sono stati riscontrati poi negli uccelli per un'interferenza di questo composto con l'enzima che regola la distribuzione del calcio. Ne conseguono assottigliamento del guscio delle loro uova che finiscono per rompersi precocemente durante la cova. Questi sono tutti effetti collaterali dannosi che sono stati scoperti. Dagli anni Sessanta del secolo scorso in poi, in seguito ai dubbi nati in seno alla comunità scientifica e a campagne ambientaliste condotte inizialmente negli Stati Uniti, poi in Europa, l'uso del DDT fu fortemente limitato. La Svezia fu la prima nazione a bandirne l'uso nel 1970, mentre negli Stati Uniti fu messo al bando due anni dopo, eccezione fatta per gli usi essenziali per la salute pubblica. Dal 1978 una direttiva europea proibì la commercializzazione e l'uso di prodotti per l'agricoltura contenenti DDT e altri insetticili organoclorurati particolarmente pericolosi. Nel 2001 numerosi paesi aderirono alla Convenzione di Stoccolma, un trattato globale per regolamentare fortemente l'uso del DDT e di altre sostanze persistenti nell'ambiente. Questo trattato permette comunque la produzione e l'uso del DDT per il controllo dei vettori di malattie, in particolare della malaria. È utile sottolineare che ancora oggi in Africa questa malattia, la malaria, uccide un milione di persone ogni anno, soprattutto bambini. L'utilizzo del DDT deve però avvenire nel rispetto, e viene utilizzato in Africa, ma nel rispetto delle condizioni di trattato e sotto specifiche raccontazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Infatti nel settembre 2006 l'OMS ha tenuto una conferenza stampa per promuovere l'uso diffuso del DDT in Africa. Pensate, quindi sempre le cose da fare con equilibrio. Non si può allevare all'Africa, perché se no lì ha un effetto. Il dottor Arata Cochi, responsabile del programma OMS sulla malaria, ha assicurato al mondo che il DDT non è solo l'insetticida più efficace a tutt'oggi contro la malaria, ma può anche essere utilizzato senza rischi per la salute se usato correttamente, e ha dichiarato che ampliare il suo uso è essenziale per rilanciare la campagna internazionale volta a controllare questa terribile malattia. L'uso del DDT come prevenzione della malaria, secondo quanto si legge nel comunicato OMS, è promosso anche da alcune associazioni ambientaliste americane, perché bisogna ragionare sempre con equilibrio. Ecco dunque un caso emblematico di chimica applicata all'agricoltura e alla salute, con attività regolatoria, rigorosa, determinata da che costa? Da organizzazioni sovranazionali. Il binome agricoltura sostenibile e chimica verde diventa oggi la sfida più grande per gli anni a venire. La FOA ha infatti stabilito le tre grandi emergenze da affrontare. Denutrizione e simultanea pandemia emergente di obesità e malattie legate all'alimentazione, perché questo è anche il problema, che accanto alla denutrizione e nelle società più sviluppate c'è una pandemia di obesità e malattie legate, per esempio tutte le malattie cardiovascolari, capacità di nutrire 10 miliardi di persone entro il 2050 senza distruggere le nostre risorse naturali e infine arrestare e possibilmente invertire la perdita di biodiversità, il degrado ambientale e il cambiamento climatico. Insomma, sono tre sfide non da poco. Per realizzare questi tre obiettivi sfidanti non potremo che ricorrere all'agricoltura sostenibile con i suoi cinque principi e alla chimica verde con i suoi dodici fondamenti. I cinque principi dell'agricoltura sostenibile sono riportati in questa diapositiva e correlati ai dodici obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU e sono aumentare la produttività agricola, l'occupazione e il valore aggiunto nel sistema alimentare, proteggere e valorizzare le risorse naturali, migliorare i mezzi sussistenza e promuovere una crescita economica inclusiva, migliorare la resilienza delle persone, delle comunità e degli ecosistemi e infine adattare il governo del pianeta alle nuove sfide. Per realizzare questi obiettivi sicuramente la chimica verde con i suoi dodici principi, potrà essere un fantastico alleato. Prevenire la generazione di rifiuti piuttosto che trattarli o bonificarli una volta generati. Economia dell'atomo nel senso di mettere a punto sintesi di nuovi prodotti che incorporino quanto più possibile nel prodotto finale i materiali e gli intermedi chimici utilizzati. Sintesi chimiche più sicure, progettazione di sostanze chimiche più sicure, solventi e ausiliari più sicuri, progettazione finalizzata all'efficienza energetica, uso di materie prime rinnovabili, riduzione dei derivati, catalisi, progettazione finalizzata alla degradazione rispettosa dell'ambiente, analisi in tempo reale per la prevenzione dell'inquinamento e infine chimica intrinsecamente più sicura per prevenire gli incidenti. In conclusione, dopo questa passeggiata a braccetto di agricoltura e chimica, cosa possiamo augurare all'umanità? Io l'ho trovata in un recente articolo sulla chimica e l'industria di un mio ex studente, tra l'altro una professore all'Università Piemonte Orientale, Matteo Guidotti. Ossia cosa potremmo immaginare noi? È una cosa simpatica però anche, come dire, che ci fa pensare al futuro. Si possa immaginare che la tavola periodica degli elementi, che è il nostro pane quotidiano, chimici, che però ha anche l'icona forse più rappresentativa di tutta la scienza moderna e anche condensato di tutta la materia presente in tutto l'universo, possa davvero dare una forte mano all'agricoltura. La tavola periodica degli elementi con un cambio di sue due sole vocali, a costruire una tavola periodica degli alimenti massimamente sostenibile per il pianeta. Grazie. Ringraziare Luigi per averci dato un quadro sintetico di come non si possa fare a meno della chimica, come non si possa fare a meno dell'agricoltura. Diciamo che dipendiamo da questa attività inventata ormai 12.000 anni fa e grazie allo sviluppo delle conoscenze scientifiche la chimica è diventata una sorta di scienza insostituibile. Pensate alla scoperta dei meccanismi di nutrizione della pianta che poi ha dato il via a tutta la parte dei fertilizzanti e così via. Abbiamo domande da poggere? Prego. Le domando. Forse la soluzione più semplice per me sarebbe quella di uscire dal paradigma della crescita, diciamo. 8 miliardi mi sembrano troppi, è una cosa enorme. Non so, certo ci vorrebbe il governo mondiale per qualche generazione una donna un figlio, un figlio e mezzo, penso sarebbe la soluzione. Cioè non nutro fiducia nella possibilità dell'uomo, non so, cerco le parole, di gestire a proprio vantaggio la complessità del vivente. Cioè secondo me in una zanzara c'è molta più complessità che in tutte le macchine l'uomo ha fatto. Basta. ma io credo che il tema che per la prima volta l'uomo si trova davanti ad affrontare, che è legato anche alle cose che abbiamo visto, è che forse per la prima volta abbiamo dei problemi che o si affrontano su base transnazionale o se non si possono affrontare. Non c'è altra possibilità. Perché le singole nazioni, i singoli stati, cosa possono fare rispetto ad alimentare 10 miliardi di persone, a contrastare il cambiamento climatico? Non sono in grado di farlo perché è una questione di scala, è una questione proprio di scala. Cioè anche il comportamento più virtuoso di un paese di 50-60 milioni di abitanti su una popolazione di 8 miliardi cos'è? È il lago nel pagliaio. Quindi o le classi dirigenti, i governanti dei grandi di tutti i paesi, ma mi riferisco soprattutto delle grandi potenze, perché qui c'è di nuovo un fattore di scala, trovano delle vie d'uscita che rappresentano una rottura fondamentale rispetto al passato. Perché nel passato le nazioni, gli stati, quando i problemi diventavano insormontabili, si facevano la guerra. Facevano la guerra. Chi vince, vince e diventa e risolve quei problemi che avevano determinato la guerra. Oggi lo vediamo fortunatamente, dico, non accade questo. Sto parlando di guerre che coinvolgono il mondo intero, noi se ci limitiamo al secolo ventesimo le due guerre mondiali. Oggi, nonostante tanti conflitti, tutti sono preoccupati, tutti indistintamente dall'escalation di questi conflitti. Perché tutti sanno che con le tecnologie di oggi una terza guerra mondiale, beh, potrebbe davvero andare vicino all'estinzione della specie umana, per i problemi del nucleare e quant'altro. I problemi del cambiamento climatico, dell'agricoltura sostenibile, della fame nel mondo, non si possono risolvere solo attraverso dei processi di governo transnazionale. Perché non c'è alternativa. È difficile, perché non ci siamo abituati, perché non li abbiamo mai risolti i problemi. L'umanità, i problemi, non li ha mai risolti secondo questa logica. L'ha sempre risolti sulla logica, non sentitevi dire, del più forte. Cioè, si fa la guerra e la guerra porta sempre un vincitore e dei vinti. E il vincitore, se vince, stabilisce un nuovo ordine. Oggi è evidente che noi siamo di fronte, sia per la crisi ambientale, sia per i conflitti, a un ordine che non c'è più nel pianeta. Non c'è più un ordine. C'è un grande disordine ora. E allora, come si parlava con te di entropia, è molto entropico. E noi sappiamo, purtroppo, che i fenomeni spontanei, a disordinarli ci vuol un po' e a ordinarli, che bisogna spendere un sacco di energia. Ora il problema è, in questa fase di transizione, cercare di comprendere che le singole nazioni, purtroppo, ma non perché non lo vogliono fare, perché non ce la potrebbero fare. Io non vedo altre soluzioni. se no, la situazione... Ora, non voglio mandarvi a casa con una visione catastrofica, ma avete visto quella curva che cresce esponenziale e che le previsioni ci dicono che nel 2100 arriverà 10.000. E quello dovrebbe essere... Cosa dovrebbe essere? Non ci piacerebbe che fosse l'asintoto. E invece loro dicono il massimo. Ma se è un massimo, dopo se c'è. C'è un asceso. Eh, ma attenzione, c'è un esperimento che è stato fatto per caso in una piccola isola che è nello stretto di Bering, fra gli Stati Uniti, l'Alaska, dove la trovate, mi pare si chiama Isola di Sant'Andrea, se andate su internet. Prima della fine della Seconda Guerra Mondiale si pensava che il mondo potesse finire perché non si sapeva se veniva usata la bomba atomica, poi furono usate due, però poi alla fine ci si fermò lì. Quest'isola venne considerata una specie di rifugio dove l'umanità avrebbe potuto ricrearsi qualora fosse stata la catastrofe. E in quest'isola, che era deserta in pratica, sì c'era un po' di licheni, latitudine molto alta, furono messe una coppia di renne, oppure tre o quattro coppie, insomma pochi capi. Poi per fortuna la guerra non finì con la catastrofe nucleare. Allora fu deciso di seguire questo esperimento e andare dagli scienziati, etologi e zoologi, anche scienziati delle dinamiche di popolazione, a vedere cosa succedeva a queste renne. E quindi fu monitorato negli anni la crescita. Naturalmente crescevano, crescevano in maniera esponenziale. E all'inizio degli anni Sessanta, quindi in grosso modo poco meno di vent'anni, da ora non mi ricordo se era una coppia o otto, ora questo l'ho andata a vedere, avevamo circa una popolazione di 6.200 renne. Effetto della riproduzione e dell'ambiente che evidentemente aveva consentito che non solo nascessero ma anche che si nutrissero. Cosa accade? Che nel giro di quattro anni le renne diventarono quattordici. E se andate a fare il grafico, vedete la crescita esponenziale, 6.400. Non c'è l'asintoto, c'è il massimo, ma la cosa drammatica è che la discesa avviene in quattro anni. Circa vent'anni per andare da quattro o da otto, non ha importanza, fino a una popolazione di 6.000 e in quattro anni praticamente la popolazione si chiama effetto Seneca, questo è un collasso. Perché è successo questo? Perché c'era più da mangiare, perché i licheni dell'isola non ce la facevano. Allora la denunzazione ha portato morte, una rapida estinzione, dice ma noi ci sta a questo pianeta, non è mica un'isoletta. Però attenzione perché che cosa sono i licheni per noi? Quello che vi ho fatto vedere io, ma c'è una cosa ancora più importante, che loro avevano bisogno solo dei licheni. Noi di che cosa abbiamo bisogno oltre che dei nostri licheni per far andare avanti le nostre società molto più evolute delle loro? Abbiamo bisogno di energia, tanta energia, molta più energia di quanto avessero bisogno le renne. E allora il paragone che si trova, cosa vuol dire sostenibilità? Non è solo uno degli aspetti, è avere da mangiare, perché al desco possono tutti mettere il cucchiaio. Ma questa evoluzione della società fa sì che noi abbiamo bisogno di tanta, tanta, tanta energia. tecnologia. Non solo per fare tanta coltivazione, ma per portare avanti le nostre società che non possono tornare in tre ore all'uomo della pietra o anche all'uomo del medioevo. E quindi questo è un esempio che viene portato in tanti convegni sulla sostenibilità. Va preso ovviamente con le molle, non è che c'è da fare, però attenzione, perché noi ora siamo nella fase difficile esponenziale. Sappiamo che probabilmente si arresta, però ancora le previsioni su cosa succede dopo aver raggiunto questo massimo non ci sono. Ovviamente non riguarda tutti questi presenti, perché noi non ci saremo nessuno di noi, nemmeno il mio nipotino che ha tre anni. E che vuol dire però questo? Ci sarà un altri nipoti, bisnipoti, pro-nipoti e noi non è che possiamo pensare che l'umanità chi se ne frega, tanto noi non ci siamo più. Il tema dell'agricoltura sostenibile, il tema dei consumi energetici, il tema dei rifiuti, se ne potrebbe mettere, sono temi che richiedono un governo quanto più possibile di organizzazioni ovviamente transtazionali, perché se no non si risolverà mai niente. Grazie Luigi. Io volevo aggiungere solo una cosa. In effetti un accordo internazionale sottoscritto da 193 paesi aderenti all'ONU fu raggiunto nel 1987, quando in qualche modo la comunità dei paesi accolse approvò quel rapporto il futuro di tutti noi. Questo era il titolo di quel rapporto. Dal 1987 poi sono passati 28 anni, si arriva al 2015 per vedere approvata l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma la nascita di sviluppo sostenibile è proprio del 1987 che io faccio coincidere con la nascita della parola sostenibilità, ce ne siamo accorti a loro. Cosa è mancato e cosa sta mancando ancora oggi? È il coinvolgimento di tutti i cittadini. Non basta che si mettano d'accordo i governi di 193 paesi. Se non c'è coinvolgimento dei cittadini e in qualche modo un cambiamento di comportamento di ciascuno di noi, anche se singolarmente si conta poco, uno su più di 8 miliardi cos'è? Trascurabile diremo da un punto di vista matematico. Ma in effetti anche quel singolo conta. Oggi poi siamo distratti, perché in qualche modo già lo vediamo con lo sviluppo sostenibile. Il Green Deal del 2019, quattro soli anni fa, sembra ormai cosa vecchia. Guerra in Ucraina, guerra in Medio Oriente, altre guerre sparse per il mondo. Ci si interessa di fatti, come dire, quasi occasionali e perdiamo di vista quello che invece è l'obiettivo per garantire a chi verrà dopo di noi di poter soddisfare le proprie esigenze con le risorse che abbiamo avuto noi. Questo è il patto intergenerazionale che fu sottoscritto anni fa. Non lo stiamo rispettando. L'ultimo rapporto ISPRA, uscito una settimana fa, dieci giorni fa, dell'ISPRA sul consumo di suolo, ci dice che in Italia, per esempio, il consumo di suolo procede a un ritmo che ha superato i due metri quadrati al secondo. Parlo di consumo di suolo irreversibile, ossia quello dove io ci costruisco sopra e non potrò più utilizzare quel terreno ad altre finalità, men che meno l'agricoltura. Bene, abbiamo superato come consumo di suolo irreversibile i due metri quadrati al secondo. fate i conti, divertitevi a fare i conti, non è la scacchiera di riso con un grano di riso per ogni casella, no, due metri quadrati al secondo e vedete dove si arriva. La superficie agricola totale in Europa si sta riducendo in tutta Europa e la riduzione di superficie agricola utilizzata si sta riducendo ad una velocità doppia. Questo cosa significa? Significa che dovremo ricorrere a una maggior quantità di prodotti importati e allora si spiega il perché in paesi come l'Africa la quantità di coltivazioni, il grafico che ha fatto vedere Luigi nel corso della sua presentazione, aumenta di misura. Il futuro non si gioca sull'energia, troveremo altre fonti, non c'è dubbio che riusciremo a trovare delle fonti alternative al petrolio di energia o al gas. La scommessa si gioca sul cibo, è il cibo che diventerà la moneta di scambio. Già lo abbiamo visto, non noi, ma il Nord Africa l'ha visto con la guerra, con la guerra in Ucraina e non arriva più grano. E quindi il futuro, la Cina sta comprando, parlare di appezzamenti di terra a far ridere, sta comprando intere regioni in Africa. Il soy grabbing, no? Come lo chiamano. Quindi investimenti paurosi, sta creando le infrastrutture per garantire lo spostamento delle derrate alimentari dall'Africa, zona di produzione, alla Cina per dare da mangiare ai propri cittadini. Perché non c'è coinvolgimento? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Perché se tutti quanti conveniamo razionalmente, anche parlando in salotto tra di noi, conveniamo su certe problematiche che sono anche facili. È facile in qualche modo contestare chi demonizza la chimica. Basta portargli due dati e, voglio dire, riesce facile, no? Dirlo. Io credo che uno dei motivi sta nel fatto che noi viviamo in in una nicchia, in una sfera, in una bolla separata dal resto del mondo. Ve lo dimostro con due dati. Io ho 76 anni. Quando sono nato, la popolazione del mondo non arrivava a due miliardi e mezzo. Oggi la popolazione del mondo supera gli otto miliardi. Cosa significa? Che significa che mentre io crescevo, studiavo, mi laureavo, ho vinto qualche concorso, la popolazione mondiale è aumentata di tre volte, del 300%. Ora, sono arrivato all'età della pensione, sono impegnato all'Accadema dei Giorgofi di tutti i giorni. Io mi sento bene ringraziando il cielo, mi guardo intorno e mi accorgo, ma quanti siamo? Bene, in 76 anni in Italia siamo passati da 49 milioni. Io ero uno dei 49 milioni nati nel 1947 e oggi, nel 2023, siamo 59 milioni. Siamo aumentati solo del 20%. 15 volte meno di quello che è stato invece l'aumento di popolazione globale. La domanda che faccio è questa. Se oggi in Italia, anziché 59 milioni, fossimo 160 milioni, voi siete sicuri di poter accedere al cibo, alla casa, di poter mantenere, come dire, lo stile di vita, il tenore di vita che stiamo seguendo oggi? Provate a pensarci un momento. Quindi la percezione del problema è completamente diversa. Ha citato Luigi l'Africa. L'Africa è quella che al momento testa le maggiori preoccupazioni. Perché oggi sono soltanto un miliardo e mezzo di persone, di africani. Ma nel 2100. Ma nel 2100 supereranno i due miliardi e mezzo. Aumenteranno di colpo di più di un miliardo. E allora diventa un problema. I flussi migratori. La Nigeria avrà quasi il doppio degli abitanti di tutta l'Europa. 6-700 milioni. Terzo paese dopo India e Cina. La Nigeria. Comunque sono argomenti su cui è bene parlare, confrontarci, divulgarle. Perché sono i veri problemi della nostra società contemporanea. Le altre sono piccole cose. Piccole cose. Qualche altra domanda? Riflettendo su questo che avete detto e anche su quei dati che mostravano come gran parte del suolo sia dedicato all'allevamento di animali rispetto a quello che è destinato alla diretta produzione diciamo di vegetali, di cibo vegetale per l'uomo. Non potrebbe essere parte di una soluzione per esempio transitare agli insetti come cibo per l'uomo e questo non potrebbe far fare uno scatto di produttività quasi in un certo senso come quello che la chimica ha fatto fare nel novecento con i concimi, fertilizzanti eccetera alla produzione agricola? Sicuramente non so rispondere a questa domanda perché è un tema in cui ci vogliono gli esperti io non lo so. Indubbiamente questo equilibrio, perché siamo in una situazione di equilibrio, è un equilibrio instabile ma comunque è un equilibrio, necessita di, bisogna intervenire su questo equilibrio perché che il 77% del coltivabile sia per gli animali, ci stanno già pensando sul consumo di carne eccetera. Però ecco risponde alla domanda se gli insetti possano essere, per così dire, una prospettiva? Io onestamente non ho gli strumenti per poter dare una risposta in tal senso. A fine settimana, può darsi già da giovedì, sul sito nostro dell'Accademia dei Giorgofili, cioè Focus, verrà inserito un documento e anche sarà segnalato dal banner proprio sulle alternative alla carne e le prospettive che ci sono con domande e risposte. Oggi le alternative alla carne sono sostanzialmente tre, come fonti proteiche. Ricordo che la FAO ci dice che da qui sempre al solito 2050 occorrerà aumentare la produzione di proteine del 70% rispetto a oggi. È una quantità enorme. Quali sono le alternative alla carne in termini proteici? Tre. O l'origine vegetale, leguminose in primis, o insetti, o la carne coltivata in laboratorio, ossia la carne a base cellulare. Queste sono le tre alternative. E la scienza, la tecnologia ci dovranno dare risposta. Ancora la chimica ci verrà d'aiuto. Non conosciamo intimamente la composizione degli insetti né il loro destino da un punto di vista metabolico umano. Al momento sono approvati come Nobel Food alcune larve, gli insetti, la larva lì della farina. Ma l'uso si presta. Concettualmente è una possibilità importante, anche perché l'insetto in qualche modo non consuma terreno. Si possono fare in ambienti controllati. Le proteine di fonte vegetale sono già oggi una realtà, ma non darebbero tutta la composizione amminoacidica di cui ha bisogno l'uomo per crescere. Sulla carne coltivata, così come viene detta, coltivata in laboratorio, in effetti a base cellulare, abbiamo ancora pochi dati. La ricerca è proprio all'inizio. Comunque sicuramente anche qui andrà avanti e molto la chimica potrà fare, specie per la messa a punto dei formulati dei brodi dove avviene la coltivazione, lo sviluppo e la coltivazione di queste cellule. Quindi c'è tanto da fare. Un documento che risponde senz'altro a questa domanda giovedì sarà sul sito. Altre domande? Allora non ci resta che ringraziare, ringraziare prima di tutto Luigi Dei e tutti coloro che hanno seguito questo pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.